quando vuoi è cabrato aspetta a tirar dentro i cosi e mi si chiamano i carrelli e lascialo andare un po così cerca di essere dolce, è il più possibile prendi la lunga va che va eh lascialo correre, lascialo correre quando vuoi attiva dentro i carrelli eh sì qui 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 ok è qui Tira fuori i carrelli va. Se vai a manetta come fa? Ha 6 manetta? Si non si. 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 Si.